Ehi, sei interessato a vincere una gift card magari per comprare dei V-Bucks? Io vi invito a fare questi semplici passaggi magari per essere il vincitore di questo grande contest. Innanzitutto, lascia un like sotto questo video, iscriviti, attiva la campanella e lascia un commento inerente a questo video. Ma soprattutto devi condividerlo, perché se avrai fatto tutti questi passaggi potrai essere vincitore per vincere questo monte premi di V-Bucks. E ora vi lascio al video. Hello guys, benvenuti in un nuovo video, siamo arrivati in un nuovo video riguardante i news di Fortnite. Anche questo video durerà breve perché è una piccola news che ve la devo dire il prima possibile. Perché, come avrete letto dal titolo, Parco Giochi ritornerà molto presto, o meglio ancora, tornerà il 25 luglio. Ma ritorna alla grande, in che senso? Nella modalità Parco Giochi 2.0, quindi la seconda volta che verrà introdotta e questa volta permanente. E in questa seconda versione, ragazzi, avremo le impostazioni di squadra. In pratica possiamo modificare le impostazioni noi di gioco, come settarle al meglio. E non è tutto, perché potremo avere più loot, di trovare più loot, perché verrà potenziale anche il drop delle munizioni, delle armi e tanto altro. Però la lista completa delle info verrà rilasciata durante l'aggiornamento del 5.10 di Fortnite, o meglio, quella del 24 luglio, che è domani. Quindi ragazzi, domani verrà rilasciata tutta la lista degli aggiornamenti che sono fatti per quanto riguarda su Parco Giochi. Mentre il 25 luglio, quindi ragazzi, 25 luglio, uscirà la modalità Parco Giochi permanente. Con questi, appunto, cambiamenti che ho detto molto rapidi e le uniche che ci hanno rilasciato, che questo qui è lo screen appunto della Epic, dove mostra gli aggiornamenti che faranno su Parco Giochi, che possiamo modificare noi le impostazioni di gioco e ci sarà più loot, un po' come le 50 e 50, più munizioni, più armi e tanto altro, per rendere comunque il gioco un po' più competitivo per quanto riguarda Parco Giochi. Ragazzi, condividete questa novità con tutti quanti i vostri amici, giù nei commenti ditemi quanti di voi già sapono questa notizia e quanti no. Noi ci vediamo col prossimo video e sciopelli! Noi was supposed to be my friends, I killed, why did you die to me? I killed and no one to free for champions, I can't believe it's wrong. Wait a minute! Ehi! Grazie a tutti